Eccoci qua, ben ritrovati ad una nuova puntata di O la borsa o la vita, un format di Antenna Sud dedicato all'economia e alla finanza, un modo per esservi vicini in questo periodo di crisi, per iniettarvi una giusta dose di fiducia e perché no anche una carica di ottimismo. Voi chiedete, noi rispondiamo, ma rispondiamo attraverso l'esperienza e la professionalità della dottoressa Marianna Roglieri, ben arrivata, ancora una volta con noi. La dottoressa Roglieri ci è bancaria, quindi chi più di lei può rispondere alle tante domande che pur arrivano in redazione attraverso il numero verde, ma anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica. Proprio attraverso la posta elettronica arriva la prima sollecitazione di oggi. Ho 40 anni, punto. Mi conviene pensare di accantonare una somma in un piano di accumulo azionario o obbligazionario? Grazie mille, donato. Beh, donato ha fatto una cosa bellissima, ci ha detto quanti anni ha. Perché? Perché per noi è importante che l'investitore abbia una determinata età per capire come muoversi. Io, se potessi dare un suggerimento, direi di dividere le disponibilità in un fondo o in un PAC, sia azionario che obbligazionario. Il PAC con versamenti continuati nel tempo ci permette di cogliere le opportunità positive sia del mercato obbligazionario sia del mercato azionario, senza vivere però quell'ansia che invece ci mette l'investimento PIC, cioè l'investimento singolo nel fondo azionario ed obbligazionario. Mi spiego meglio, se abbiamo una capacità di risparmio di 100 euro al mese, potremmo prevedere 50 euro in un fondo obbligazionario e 50 euro in un fondo azionario. L'importante è dire al nostro amico che si prefigga degli obiettivi temporali. Il fondo azionario dà una performance sicuramente migliore, ma ha bisogno di più tempo per maturare. Il fondo obbligazionario potrebbe arrivare, diciamo, al rendimento aspettato in meno tempo. È importante dividere, io ho dato un'ipotesi di investimento al 50%, però a seconda della propensione al rischio del nostro amico si potrebbe anche fare un 80-20 o un 70-30. Questo permetterebbe al nostro amico di mettere da parte dei soldini, di incominciare a vedere gli interessi rispetto al proprio risparmio, senza per questo doversi preoccupare, una volta accumulato il denaro, di investire. Magari il momento, una volta accumulato il denaro, non è il migliore e investendo in quel determinato momento storico si hanno tutti gli svantaggi del momento storico in cui si investe. Il PAC invece permette di mediare e quindi di investire in momenti di mercato diversi. Bene, seconda domanda. Ci arriva da una coppia, Loretta e Gianni, o Gianni e Loretta, che dir si voglia. Questa non è una domanda legata a vicende azionari, obbligazionari di investimento, invece è una domanda che credo le faranno decine di volte al giorno in banca. Non ho risparmi, non abbiamo risparmi ma vorremmo comprare casa in modo da pagare anziché un fitto, una rata di mutuo che ci permetta anche tra 30 anni di lasciare qualcosa ai nostri figli. La banca però non ci concede il mutuo nonostante il nostro reddito cumulativo sia buono. Come mai? Io ho 34 anni e mia moglie 32. Allora, questa è la domanda proprio... Regina. Regina. È vero o no? È vero che... In pratica cerco di essere ancora più chiaro. Questa coppia vuole comprare una casa però non ha i soldi da dare come anticipo, va alla banca e dice scusate, mi eroghereste tutti i soldi per comprare questa casa? E la banca dice no, perché? Dal punto di vista accademico i mutui si possono erogare anche al 100%. Se questa teoria la caliamo nel momento storico che stiamo vivendo è sicuro che a Loretta e il nostro amico Gianni, poche banche in questo momento avranno la possibilità e la voglia di valutare il merito creditizio dei nostri amici. Io vi permetterei una valutazione. I nostri due amici sono anche abbastanza giovani e se hanno un buon reddito la domanda, la prima domanda che un operatore che istruisce una pratica di mutuo si fa è ma come mai nonostante un buon reddito non sono riusciti a mettere da parte dei soldini? Quindi se sino a questo momento non hanno avuto una capacità di risparmio tale da poter mettere da parte dei soldini da dare come acconto, probabilmente i nostri amici avranno un tenore di vita abbastanza alto. Dottoressa, scusi, io però leggo un velatore in provero in questa risposta che lei sta facendo ai conici Gianni e Loretta e lei ha detto in televisione che sono spendacioni. Però è anche vero che le banche dovrebbero recuperare anche un minimo di ruolo sociale. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che magari i nostri amici possono aspettare un annetto, mettere da parte le somme necessarie per poter dare un minimo di acconto con disponibilità personali e un altro elemento di valutazione è, che è strano da sentirsi dire per un privato, il rating. Cosa significa? In noi clienti abbiamo un rating proprio come succede alle aziende, ai titoli di Stato sovrani. A seconda del nostro comportamento come consumatore le banche ci valutano. hanno una rete di banche dati che vale per tutte le banche che vi aderiscono, che ormai sono tutte, che riescono a valutare il nostro comportamento da, diciamo, da debitore. Che cosa significa? Lei mi sta dicendo che tutti noi siamo giustamente legalmente schedati, quindi se io glielo chiedessi lei la settimana prossima potrebbe venire qui e si bendo il mio rating? Assolutamente no, perché non è deontologicamente corretto. Però, un po' come succede a scuola, ecco, per semplificare. Lei l'ha già fatto, ha già visto se io sono un buon rating o no? Antonio, sono sicura di sì, però, sono sicura di sì, perché sto elaborando questa dote divinatoria, però in realtà non abbiamo avuto la possibilità. Hai capito, quindi c'è la possibilità di capire chi si ha di fronte. Sì, sì, i clienti hanno un voto, come succede, rispetto, per lo Stato italiano, lo Stato francese, adesso di estrema attualità, anche in lettere o in cifre? In lettere. Ah, proprio come lista, tripla A, eccetera, eccetera. Sì, 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 quindi un cliente tripla C, difficilmente, anche se ha un buon reddito, potrà avere accesso al credito facilmente. Un bel tripla A? Un bel tripla A? Superior. Bellissimo, ha buone possibilità, quindi è necessario, e questo è da trasmettere, mantenere sempre un comportamento corretto, anche se si fanno dei piccoli finanziamenti, non so, per acquistare il televisore, adesso sono molto diffusi i finanziamenti per il credito al consumo, è importante mantenere un comportamento corretto, perché magari una rata non pagata per due o tre mesi di un finanziamento molto piccolo può determinare un rating basso, quindi una doppia B, una tripla C, che poi, in un momento importante della vita, come può essere quello dell'acquisto di una casa, ci... Brava, può crearci problemi più grandi. Io sono poco porropenso all'acquisto a rata, non l'ho mai fatto in vita mia, ma quando l'ho fatto per acquistare, insomma, merce di valore come un'automobile, io domicilio la rata, così non mi dimentico e non rischio di entrare in questa centrale rischi, diciamo che... Sì, bravissimo, perché purtroppo succede anche che magari per disguidi tecnici la rata vada insoluta e il cliente, magari non particolarmente attento, non si accorga che sul proprio conto corrente non c'è la debito della rata, quindi magari passa la prima, passa la seconda, passa la terza rata e poi il REED viene caricato a posteriori. Ecco, anche questi disguidi, che poi ovviamente sono dimostrabili, possono determinare un abbattimento della valutazione del cliente. Ecco, questo è importante, magari, come diciamo sempre, è importante essere investitori e consumatori coscienti, ecco di quello che facciamo, in qualsiasi momento della nostra vita. Terza e ultima domanda che io ho collegato, perché tra tutte quelle che ricevo cerco anche di creare nel mio piccolo una scaletta e abbiamo parlato del mutuo, come avere un mutuo anche se non si ha, insomma, una cifra iniziale da investire, invece Mario ci chiede quali sono e che nome hanno le varie voci di spesa collegate ad un mutuo? Questa è un'altra domanda regina, una domanda che molti non si fanno prima. E' certo, perché non è solo l'acquisto della casa in sé, è il notaio, è il posto del registro, è l'età a sé e non si finisce più. Allora, quali sono queste voci? Parliamo dell'acquisto della prima casa, che è quello che più o meno è abbastanza diffuso. Adesso è la prima e l'ultima casa ormai si acquista, perché una volta uno si comprava Anche perché la tassazione sulla seconda casa è abbastanza salata. Quindi, quando si richiede un mutuo in banca, le valutazioni da fare rispetto all'acquisto della casa sono queste. Innanzitutto, le tasse che io pago, il cosiddetto DPR sul mutuo, ammonta per la prima casa lo 0,25%. Poi ci sono le spese di struttoria, le spese di struttoria del mutuo variano ovviamente da banca a banca, vanno da un minimo di 200 euro ad un massimo che poi non possiamo definire, dipende anche dall'importo del mutuo richiesto. Poi ci sono le commissioni di incasso per rata. Tutte queste voci chiaramente devono essere inserite nell'atto pubblico ed è opportuno che il cliente le richieda preventivamente. Le commissioni di incasso per rata o commissioni una tanto, ma a seconda che siano richieste al cliente all'atto della liquidazione della somma richiesta o spalmate su ogni singola rata. Poi un'altra voce importante, l'assicurazione incendio e scoppio sull'immobile che è obbligatoria, cioè si prende il valore dell'immobile e lo si assicura presso una compagnia di gradimento e questo tipo di spesa è obbligatoria. Poi ci sono le spese notarili e all'interno delle spese notarili si intende non solo la spesa dell'onorario, del notaio, del pubblico ufficiale che parteciperà alla redazione dell'atto, ma anche ovviamente l'imposta per il registro dell'ipoteca. Quindi tutte queste spese che, ripeto, sempre a seconda dell'importo della casa e dell'importo mutuato, montano ad una cifra molto considerevole che deve essere considerata all'interno del piano finanziario per l'acquisto dell'immobile. In più diciamo che ultimamente è quasi diventata fondamentale per tutte le banche le polize che ci coprono dal rischio di perdita del lavoro, dal rischio di premorienza rispetto alla scadenza del mutuo che non sono obbligatorie ma facoltative, danno alla banca una sicurezza in più rispetto al pagamento della rata, visto che come abbiamo detto tante volte ormai i mutui non sono più decennali ma sono trentennali, quindi in 30 anni ci si può coprire dal rischio magari di una perdita temporanea del lavoro o di un'invalidità temporanea rispetto alla capacità di pagare il mutuo in quel momento. Va bene, grazie veramente dottoressa, noi ribadiamo quello di cui abbiamo parlato oggi e vi ricordiamo che tra il PIC e il PAC è meglio il PAC, che quando fate i finanziamenti rid bene chi rid fino all'ultimo perché altrimenti è un problema e infine che sono così tante le voci per accendere un mutuo che quando ve le racconteranno rimarrete ammutoliti, è vero? Diciamo che bisogna preventivarle, ecco questo sì. Benissimo, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di O la Borsa o la Vita, vi ringraziamo e vi invitiamo a scriverci e a telefonarci per formularci le vostre domande. Arrivederci, grazie. Grazie a te Antonio. Tra la borsa e la vita, noi preferiamo? La vita. La vita. Ciao a te.